Edoardo Bianchi, San Giorgio Marin, costruisce le barche più belle del mondo e anche i classi 40 più belli del mondo. Grazie, costruiamo dei grandi progetti insieme a dei grandi skipper. La barca è un pezzo del progetto, la regata inizia in cantiere perché arrivano a ordinarle sempre in ritardo di corsa che bisogna morire per consegnarle e quindi iniziamo insieme a loro queste avventure che concludono loro poi in mare facendo dei grandi risultati. Grandi risultati però l'idea nasce anche da Ambrogio Beccaria e dai suoi amici. Sì esatto, in effetti è vero, è nata un po' come una banda di amici però appunto avevamo un po' questa forza così che ci trascinava di essere sicuri che stavamo facendo la cosa giusta o perlomeno non ci siamo posti molto il problema. E quindi il progetto Musa 40 è nato così insieme a Gianluca Guelfi e Fabio D'Angeli e appunto poi Iedo è stato il costruttore ma sicuramente non sarebbe stato possibile senza la fiducia di Pirelli che insomma ci ha dato un po' a tutti così là per iniziare questo bellissimo progetto che adesso va avanti anche con altre barche. Per chi non sa nulla di barche perché è speciale questo progetto? È molto semplice perché va veloce. Va talmente veloce che c'è anche un grande navigatore e velista come Pietro Luciani che corre con i francesi però il francese ha deciso di farsi la barche d'Italia. Ho convinto un ragazzo con cui corro gli ho detto la prossima barca la facciamo in italiana. Sostanzialmente è andata così. Sono felicissimo, questo progetto l'ho visto nascere da fuori con grande amminazione, un po' di preoccupazione, questi qua sono tutti matti e veramente un po' incoscienti. Meno male che c'è questa sana incoscienza, questa sana follia che ha portato Ambrogio e il suo team a andare avanti e ha trovato qualcuno che lo supportasse e lo seguisse. E siamo qui che costruiremo la stessa barca, sarà il quarto esemplare, quello su cui correrò io insieme a questo ragazzo francese. E non vediamo l'ora di metterla in acqua anche noi. Per ora andiamo a fare tutti la stessa regata, noi con la barca vecchia, loro con la barca nuova. A questo punto non so cosa sperare, se arrivargli davanti con la barca vecchia e pentirmi di aver ordinato quella nuova. Però oltre a fare le regate tu sei anche amministratore della classe 40, che l'anno prossimo in Italia e nel Mediterraneo farà qualcosa in più di quello che stai già facendo. Sì, io sono vicepresidente della classe da tre anni, sono nel consiglio amministrazione della classe da cinque anni e da due anni abbiamo, nel 2022 abbiamo lanciato il primo edizione del trofeo classe 40 Mediterraneo. Quest'anno, nel 2023, siamo la seconda edizione. Per il 2024 abbiamo in servo una nuova regata molto lunga e molto intensa, di quasi 2000 miglia, nel Mediterraneo. Una cosa unica per le nostre acque, diciamo, così lunga una regata non si vede da noi. Contiamo di riuscire ad attirare in Mediterraneo tante barche che di solito resterebbero nelle coste atlantiche. Però il primo appuntamento è alla fine di ottobre con la Jacques Fabre e con Ambrogio Beccaria e alla grande Pirelli e anche altri italiani protagonisti. Che regata sarà? Ogni regata è una storia a parte, quindi dire oggi che regata sarà è molto molto difficile. Diciamo che la rotta un po' la conosco perché è molto molto simile alla minitransa, alla prima minitransa che ho fatto, anche perché passavamo da Capoverde. C'erano costretti nel 2017 a passare da Capoverde, quindi è una regata un po' diversa dalla transat classica, diciamo un modo del road room in cui tagli tutto. C'era tantissima andatura portante, veramente tantissima, è lì che probabilmente la regata si vince, non come la road room che invece forse la si vince più di bolina. quindi da questo punto di vista è un po' più comoda, si è in doppio, quindi c'è anche questo aspetto qua psicologico un po' più tranquillo di partire in solitario, però è una regata lunga, una regata molto molto lunga perché dura circa 20 giorni, quindi c'è un po' questo aspetto veramente da maratona che entra in gioco e io non ho mai fatto una regata più lunga di due settimane, quindi vediamo come sarà. Altra regata è quella di soddisfare tutti i clienti che verranno a bussare le porte del tuo cantiere. Siamo pronti, per ogni skipper e cliente che arriva cerchiamo sempre di customizzare un pochettino la barca attorno alle proprie esigente, quindi a dire il vero abbiamo il quarto Musa 40 ma ogni musa, ogni skipper ha messo un po' il suo all'interno della barca, quindi questa è anche la parte bella di avere a che fare direttamente con gli skipper. Ultimissima domanda, perché Musa? Musa bisogna chiedere a Gianluca Guelfi, è lui che è il poeta del gruppo, credo per questo, lui è molto legato alla cultura così umanistica da cui viene l'Italia, quindi Musa credo che è così. In realtà tutte le altre barche iniziavano con la M, avevano quattro lettere, c'era Max, Mac, poi c'era un Lyft e lui voleva differenziarsi qualcosa di più italiano. Ultimissima domanda che non si fa, pronostico? Pronostico o vince Alberto Bona?